12 lavoratori storici dell'appalto patrimonio del comune di Taranto lasciati a casa senza retribuzione, senza contributi, una situazione inedita dal dissesto del 2007. E la denuncia di Filcams CGL Taranto che evidenzia come i dipendenti siano stati dichiarati sospesi lo scorso 30 giugno, nonostante l'abnegazione, lo spirito di servizio e il senso di responsabilità. Due anni fa ci hanno detto di entrare come disabili invalidi al comune e si erano divisi tra CISL e CGL. Quest'anno all'improvviso ci hanno bloccato il lavoro. 20 giorni di ferie e l'agosto, cosa che non avevano mai fatto, ci hanno sospesi. Per il sindacato la condizione di questi lavoratori è frutto di alcune anomalie. La cosa strana della sospensione è che loro hanno avuto la proroga dal comune, la servizio integrati ha avuto la proroga. Quindi perché non ci hanno fatto continuare a lavorare questa è una cosa che non si sa. Noi chiediamo di rientrare al lavoro. Anomalie che adesso che il lavoro non è più assicurato non è più possibile accettare. Le ragazze degli asili hanno avuto anche mezz'ora in più di lavoro, cosa che a noi del servizio comuni non hanno fatto. Non ce l'hanno data questa mezz'ora in più. Perché? Se siamo tutti servizi integrati? Grazie. 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 Grazie.